Falegnameria Paludetto, da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, la polizia locale di Jesola ha sanzionato un locale del Lido, denunciando in concorso titolare e dipendente. Gli operatori impegnati nell'intervento hanno rilevato che fra i clienti del bar vi erano anche cinque giovanissimi a cui erano state somministrate bevande alcoliche. Si trattava di tre ragazze di 17 anni, un ragazzo di 16 anni e un altro di 15 anni, tutti residenti tra le province di Venezia, Treviso e Vicenza, con loro anche un terzo ragazzo di 18 anni. Gli operatori hanno applicato la sanzione prevista per l'illecito amministrativo nei confronti del commerciante pari a 333 euro per la somministrazione di alcolici a ciascuna delle tre 17 anni. Per quanto riguarda invece la somministrazione, i due giovanissimi ragazzi gli agenti hanno proceduto con denuncia all'autorità giudiziare di titolare e dipendente del locale. Tutti i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori. In caso di reiterazione della violazione è prevista la chiusura del locale fino a tre mesi. E a loro eventi di ieri è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo del giovane ventenne di mestre scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì nel lago di Morto Vittorio Veneto, dopo aver perso la presa di un materassino. Il corpo del giovane è stato individuato intorno alle 19.30 dagli operatori della ROV che sta per Remotely Operate Vehicle a 40 metri di profondità. I sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e recuperare la salma che è stata caricata su un gommone messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto il medico legale e i carabinieri. La ROV utilizzato proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Milano con due sommozzatori operatori a una strumentazione adatta per le ricerche in alto fondale. Gli agenti del commissariato di polizia di stato di mestre nell'ambito della specifica attività antidroghe con trasso alla microcriminalità diffusa svolta nel quartiere di Via Piave sono riusciti a rintracciare, presso un civico della strada menzionata, un cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine per violazione inerenti alla normativa sugli stupefacenti, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per scontare la pena di due anni e quattro mesi per un reatto in materia di immigrazione clandestina, essendo lo stesso rientrato nel territorio nazionale dopo essere stato destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. L'uomo è stato portato in carcere presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. L'attività di indagine effettuata dai poliziotti della questura di Venezia ha consentito inoltre di rintracciare presso una struttura ricettizia di Mestre, un cittadino romeno destinatario di un mandato di arresto emesso dal Tribunale di Siena a seguito di una condanna per i reati di furto commessi nel corso del 2019 che doveva scontare una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione. Anche lui è stato portato in carcere presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.